Ecco a voi la squadra di tecnici informatici del soccorso alpino mentre si esibisce allo strumento nell'invio dei messaggi a tutte le squadre del soccorso alpino Notate la destrezza delle dita sui tasti? Sa... A posto Massaggio Messaggio Siamo riusciti a mandare un messaggio Vedete il capo tecnico e il suo assistente PG Genova No io sono Bill e lui è Gates Insieme facciamo Bill Gates Bill Gates Sta mandando qualcosa? Si Il vuoto più assoluto Il vuoto E mentre una signora dispersa per i boschi attende che le squadre del soccorso alpino invino i messaggi Il pro de Bill e il baldo Gates si interrogano su questa strana macchina piena di simboli Eccolo all'opera Sento 18 Net Così adesso se lo metti su Youtube tutti sanno... No ecco Sicuro Sembra un pianista Mentre le tenebre calavano La velocità delle dita sui tasti è tale Per cui al conservatorio stanno chiedendosi quale tecnica usi Una fuga di bacca confronto è una marcia funebre Ehm... Vuoi le mani o mi aspetta? No no 58 secondi sono passati e il messaggio ancora è qua Allora 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 Contattare Guarda che non si è aperto Vai Contattare C Sì Da voi qua Aspetta che appena parto Guarda che intanto ci ho ce l'ho Con Vai Vai Eh Oddio Ti faccio lo spelling o contattare? Contattare Contattare Capostazione Tutto attaccato Capostazione Capo Io lo farei staccato Trattino Non penso quando lo vedranno i Vigili del Fuoco su Youtube questa scena Capostazione Feltre Andrei nel maiuscolo Ma è un messaggio E poi per iscrivere anche TVT Tabbè Non sia la vera Mira Contattare Capostazione Feltre Esatto Ricic Desperti Che Scrivo K E No Contattare Capostazione Feltre Per ricerca Persone Tanto guarda da qui come si vede la pelata di Marco Ricerca Miseria Ragazzi Dov'è la carta che avevi in mano prima? C'era sul testo del messaggio Per ricerca Pure Però uno capisce che deve contattare domani Sento 18? No Metti XXX alla fine Vuol dire baci baci Sì? Sai che le femmine quando ti mandano i messaggi Sì? Sì? Sì?